Il sogno di poter avere un cucciolo di razza maltese si è trasformato in una vera e propria truffa per una giovane donna grigentina di 32 anni che ci ha rimesso 100 euro. La vittima della truffa era stata allettata da un annuncio su facebook in cui una persona, presentatasi come una donna di Milano, sosteneva di voler regalare un cane maltese a chi fosse interessato. Una volta avviati i contatti la grigentina si è sentita chiedere 100 euro, somma considerata necessaria per le spese di spedizione da colei che diceva di volere regalare l'animale. Richiesta a cui la 32enne grigentina ha detto di sì, provvedendo ad effettuare un bonifico in modo da vedersi arrivare a casa quanto prima il cucciolo. Solo che alla prima richiesta di denaro ne è eseguita una seconda, stavolta da 350 euro. L'interlocutrice aveva spiegato che servivano per fare viaggiare il cagnolino in una gabbietta con aria condizionata e con tutte le comodità del caso. A quel punto la grigentina, che non ha effettuato il secondo bonifico da 350 euro, ha cercato di mediare cercando soluzioni alternative, visto che la cifra iniziava a lievitare un po' troppo. E poi all'improvviso la donna milanese è praticamente sparita. Alla persona offesa a quel punto non è rimasto altro che denunciare l'accaduto alla polizia.